Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Chi si trova a Roma nel giorno della festa di Santa Francesca Romana, il 9 marzo, ha la possibilità di visitare il luogo dove ha vissuto Santa Francesca, via del Teatro di Marcello, nelle vicinanze del Campidoglio. Santa Francesca Romana è celebre per le sue visioni degli angeli, ma ricordiamo che essa è famosa anche per le sue visioni dell'inferno. Lo vogliamo ricordare anche attraverso un commento che a lei dedicò il professor Plinio Correa de Oliveira. La Santa descrive Lucifero come il più brillante dei Serafini. Per questa ragione il suo peccato fu molto grave. I Serafini sono il più alto tra i nove cori degli angeli. Lucifero, pertanto, era il più alto in grado fra gli angeli che si ribellarono e per questo fu gettato nella parte più profonda dell'inferno. Ci furono angeli che scelsero di seguire Lucifero con speciale malizia e di loro iniziativa. Furono gettati all'inferno e sono tormentati da lui perché egli è più potente di loro e ci dice Santa Francesca Romana la Divina Giustizia ha delegato a Lucifero il compito di punire per tutta l'eternità coloro che egli un giorno convinse a seguirlo nella sua ribellione. Santa Francesca ci dice anche che i demoni principali che obbediscono a Lucifero sono tre. Asmodeo che rappresenta il vizio della carne, Mammona che è al vertice del vizio dell'avarizia e Belzebù capo di tutte le idolatrie e attività oscure. Vediamo qui come i due principali angeli ribelli, Lucifero e Asmodeo, sono rispettivamente i demoni dell'orgoglio e della sensualità. Secondo la concezione contro-rivoluzionaria del professor Plinio Correa de Oliveira l'orgoglio e la sensualità sono i due motori della rivoluzione. In questo senso le rivelazioni di Santa Francesca Romana lo confermano. Questi demoni sono all'inferno e solo raramente Dio permette loro di varcare l'abisso e venire a punire l'umanità. Ma il professor de Oliveira ritiene che nel nostro tempo l'inferno si sia aperto e questi due diavoli, i peggiori di tutti, siano venuti sulla terra con il compito speciale di distruggere la Chiesa, così come Santa Francesca ci dice che a suo tempo vennero sulla terra per fare uccidere nostro Signore Gesù Cristo. La Chiesa certo è immortale, ma questo non impedisce ai demoni di cercare di distruggerla. Ci sono poi, riferisce la Santa, gli altri angeli caduti. Nella prima battaglia essi cercarono di non scegliere fra Dio e Lucifero. Non si ribellarono apertamente contro Dio, ma non sostennero neppure chiaramente la sua causa. Non appoggiarono apertamente neppure Lucifero, cercarono di rimanere in una posizione intermedia e neutrale, il che, considerato in modo più profondo, mostra, secondo il professor De Oliveira, che avevano una certa simpatia per Lucifero. Per questo Dio li condannò, ma la giustizia divina inflisse loro un castigo meno terribile di quello dei partigiani espliciti di Lucifero. Invece di essere precipitati nell'inferno, restarono nell'aria sulla terra. Ma dopo il giudizio universale andranno all'inferno per tutta l'eternità. Secondo Santa Francesca sfuggono le sofferenze dell'inferno solo per il periodo tra la prima battaglia e il giudizio universale. Questi angeli neutrali, per così dire, si dividono, afferma la Santa, in due tipi. Il primo vive nell'aria e produce gli sconvolgimenti climatici e naturali che spaventano gli uomini sulla terra e possono indurli a peccare. Il secondo tipo appartiene allo stesso coro dei nostri angeli custodi. Fanno normalmente il contrario degli angeli custodi, anziché proteggerci, cercano di indurci a peccare. Lottano quindi continuamente con gli angeli custodi. Da queste rivelazioni di Santa Francesca Romana, secondo il professor De Oliveira, possiamo trarre un'importante meditazione. Quanto è piccolo l'uomo, quanto siamo minuscoli paragonati alla natura degli angeli. Questa Santa non ha visto solo demoni, vedeva spesso anche il suo angelo custode, cioè un angelo di grado relativamente basso nella gerarchia celeste. Ebbene, nonostante questo, la prima volta che vide il suo angelo custode, Santa Francesca Romana fu così colpita dalla sua grandezza che lo scambiò per Dio stesso. Si gettò a terra per adorarlo. L'angelo la fermò e le spiegò chi era. Questo mostra allo splendore di un semplice angelo custode. Quanto più grande è lo splendore di un arcangelo, di un cherubino, di un serafino, e quanto piccoli siamo noi rispetto alla battaglia fra gli angeli che è sempre in corso intorno a noi, ovunque e in ogni tempo. Ci sono sempre angeli che scendono dal cielo con questa o quella missione. Ci sono sempre demoni che salgono dall'inferno per provocare grandi danni. Ci sono demoni che infestano l'aria, demoni che lavorano fra gli uomini, e noi siamo davvero molto piccoli se ci paragoniamo alle dimensioni di questa volta. Qual è la nostra difesa contro le macchinazioni e la malvagità di questi demoni? Dobbiamo ascoltare il Signore, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Vegliare, per cominciare, significa credere che gli angeli e i demoni esistono, hanno potere e agiscono nel mondo. Un tempo era maggioritaria tra i teologi la tesi che in ogni tentazione naturale il diavolo aggiunge la sua azione alla causa naturale senza mutare la natura della tentazione, ma rendendola più intensa. Per esempio immaginiamo che in una riunione qualcuno ci irriti. La piccola tentazione naturale a irritarsi riceve un nuovo impulso dal diavolo che cerca di accrescere l'irritazione naturale per indursi al peccato. Il diavolo agisce sempre contro di noi e l'angelo custode sempre ci protegge che glielo chiediamo o no. Ma dobbiamo chiedere più spesso all'angelo custode di proteggerci, imparare a discernere l'azione del demonio, chiedere anche la protezione della Madonna. Tutto questo è vegliare e pregare contro l'azione dei demoni. Sono i temi su cui ci invitano a meditare le visioni di Santa Francesca Romana secondo il professor Plinio Correa de Oliveira. Oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org